Sono Anna Veronelli, sono stata assessore 5 anni nella giunta di Stefano Bruni e sono adesso candidata nella lista di Forza Italia per il Consiglio Comunale. Tutti i candidati vi prometteranno che ce la metteranno tutta, io l'ho già fatto, negli ultimi 5 anni ho lavorato per i bambini e per le famiglie, per le donne e per i nostri ragazzi. Sono molto orgogliosa delle novità che ci sono ora nella nostra città, penso al nido estivo o al Giardino dei Piccoli, al Mercoledì del Cittadino o allo Sportello Rosa, penso al Progetto Aurora o alla Banca del Tempo e al nostro portale comunale. Tutte novità e nuovi servizi che nella nostra città prima non c'erano e adesso ci sono grazie all'impegno dei dipendenti del Comune, degli enti e delle associazioni con i quali ho potuto collaborare, io vorrei continuare a lavorare per la mia città con lo stesso entusiasmo che ho messo in questi i miei primi 5 anni, vi posso promettere questo ma vi invito a ripensare ai risultati che ho già ottenuto, se pensate che lo meriti scrivete Veronelli accanto al simbolo di Forza Italia sulla scheda azzurra per le elezioni comunali, il prossimo 27-28 maggio, io andrò avanti a mettercela tutta in questo modo, grazie.